L'obiettivo principale è l'eliminazione dei versaggi Mi piace una partita con il joystick da un mese Lo so fottuti Ma ti rendi conto Ma ti rendi conto Capo, procedere con una ricognizione Wii Falcon 3-0 ricevuto Battugliamento UAV iniziato Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Non passa, non ci credo Voglio essere da sopra Oh mio Dio Di libro Scusate Si Guidero io Lanzo equipaggiamento alleato in arrivo Autorizzare sorbolo di ricognizione Autonomia UAV esaurita, rientro alla base Alla squadra serve una ricognizione Wii Falcon 3-0 ricevuto, pattugliamento UAV iniziato Mezza carneficina Autonomia UAV esaurita, rientro alla base Speriamo che non mi fottano preciso mentre sto a prendere approfiggionamento Una cosa abbastanza probabile Il nemico vi sta braccando, eludetelo e sopravvivete Ancora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi mi sono finita le corazze nel mentre. Non mi ho sparato e non ho già più niente. Non mi sono finito. Non mi sono finito. Che balle. Ma dove sta? Con cosa? Sul cazzo di castello di merda. Cazzo di giustizia. Che cazzo? Dai, fa cala sto approvvigionamento. Ne restano solo 25. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Ok. 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 Va, è sbagliato proprio l'indirizzo. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prego il joystick, il joystick porta c***o. Prego il joystick, il joystick porta c***o. Pure 11 kill, not bad.